Una volta stavo ballando in tv e a un certo punto si è rotto il vestito, adesso sto in linea perfetta, guarda qua, sono dimagrita 10 kg in 2 mesi col piano Slim Fast ed è facile da preparare, uno Slim Fast la mattina, uno a pranzo, ed è buonissimo, e la sera un bel piatto di pasta non me lo leva nessuno, e con Slim Fast, visto che energia! Nuovo Slim Fast, dateci una settimana, vi toglieremo il peso!